Sul canale Piovego assieme a Maurizio Liana, un incontro per parlare delle sue criticità da anni in attesa di essere dragato e ripulito dalla folta vegetazione che spesso causa problemi. Un tesoro sottostimato e che darebbe alla città una spinta per un turismo di qualità. Abbiamo percorso appena 100 metri dalla partenza e già cominciamo a notare le prime criticità del fiume. Basta già guardare l'acqua che è torbida. Prima se riusciamo a indicare con la telecamera vicino all'argine il colore cambia dal verde diventa marrone. Perché questo? Perché negli anni si sono accumulati tanti detriti che il comune di Padova non ha mai provveduto a rimuovere. A mio modo di vedere intanto in tutti questi anni, decenni, non è mai stata attivata una politica di manutenzione ordinaria. Si inizia a intravedere ogni tanto appunto gli sfalci lungo gli argini, ma non c'è un sistema organizzato di raccolta in alveo nell'acqua. La magia di un canale che potrebbe raccontare Padova dalle sue acque, con le mura del 500, i ponti ed arrivare fino al centro storico. Siamo costretti a fermarci. Come vedete alle mie spalle, la vegetazione impedisce di continuare la navigazione. Addirittura la convenzione per quanto riguarda la raccolta rifiuti tra l'AMNUP e il comune, l'articolo 51, prevederebbe che ci fosse, ci sia una squadra dotata di apposita attrezzatura, il che vuol dire una barca professionale per raccogliere i rifiuti in alveo. Un dispiacere per chi è cresciuto e ha navigato per anni sul piovego, vederlo in queste condizioni. Una risorsa che gli amministratori comunali stentano a comprendere.